Andiamo, partiamo con la registrazione. Eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno nuovamente, oggi è il 2 aprile, giovedì, quindi stiamo andando incontro all'appuntamento più importante della settimana che è quello con i dati dei non farm payroll. Ieri abbiamo avuto l'ADP, quindi la variazione dell'occupazione americana, che ha registrato un dato meno brutto del previsto. Andiamo un attimino a rivadercelo insieme. Allora, stiamo guardando il calendario economico di ieri. Vedete che abbiamo avuto meno 27 mila unità rispetto alle meno 150 mila unità. E poi abbiamo avuto tutti i dati relativi al PMI manifatturiero sia del Canada che degli Stati Uniti. Facciamo un refresh della pagina perché adesso poi andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti più importanti della giornata di oggi. Allora, vedete che per quanto riguarda il manifatturiero diciamo che c'è stato un deterioramento più forte del previsto. il più importante vi ricordo che però è l'ISM, che è quello ufficiale. Infatti vedete che in questo caso invece che 45 abbiamo avuto un 49.1 per marzo, quindi sicuramente un dato positivo per quanto riguarda il dollaro. Sì, ed è quello che poi alla fine ha determinato un problema. No, scusate, stavo leggendo un messaggio relativo all'audio di Massimo. Poi ti spiegherò Massimo. Sì, sembra che non ci sia il microfono. Comunque dicevo, allora, per quanto riguarda il dato che vi ho fatto vedere, l'ISM manifatturiero, è quello che poi è andato a incidere anche sull'andamento dell'euro-dollaro che adesso poi andremo a valutare insieme. Per quanto riguarda la giornata odierna? Tanto poi, tra parentesi, abbiamo avuto anche le scorte di petrolio ieri. Guardate qua, guardate le scorte di petrolio di ieri, 13 milioni e 834 mila barili in più rispetto alla scorsa settimana, era atteso un incremento di 3 mila, di quasi 4 milioni, diciamo, approssimando. Perché è importante questo dato? Perché non ne stiamo parlando, ma il petrolio chiaramente non c'è domanda. Al di là che in questo momento stia continuando il silenzio tra l'Arabia Saudita e la Russia, che vi ricordo fanno parte del cosiddetto OPEC+, cioè i paesi OPEC e non OPEC, al di là appunto che ci sia il gelo tra questi due paesi e che tutto ciò abbia determinato un crollo delle quotazioni del petrolio, gli Stati Uniti chiaramente stanno sollecitando affinché questo problema venga risolto, nonostante stiano pompando loro il cosiddetto shiluil, però c'è da dire che la domanda che praticamente si è azzerata a causa del coronavirus, perché siamo fermi a casa, non stiamo utilizzando le auto e quindi la domanda è crollata. L'eventuale interruzione dell'utilizzo degli impianti può portare gravi problemi di tipo proprio strutturale e meccanico agli impianti che possono andare incontro appunto a poi problemi ancora più seri nell'utilizzo successivo. Leggevo io un articolo sul Sole 24 Ore, bisogna stare molto attenti perché qui si rischia di andare incontro a una crisi energetica senza precedenti e quindi magari una volta che abbiamo risolto la pandemia del coronavirus ci troviamo poi davanti a una crisi energetica che potrebbe causare non pochi problemi. Ricordiamoci che il petrolio è una delle componenti dell'inflazione, quando parliamo di inflazione parliamo di inflazione di base e inflazione complessiva quella di base, la Cor non tiene conto appunto dei prodotti volatili come gli energetici e soprattutto il petrolio e gli alimentari anche e quindi immaginate cosa potrebbe succedere se scarseggia la quantità di petrolio una volta che ci rimettiamo in auto i prezzi potrebbero salire alle stelle, questo significerebbe inflazione alle stelle e tutta una serie di problemi che veramente potrebbero aggravare ulteriormente la situazione. Dicevamo i dati di oggi, i più importanti non abbiamo granché a livello europeo stamattina, i più importanti li avremo al pomeriggio con la bilancia commerciale e attenzione perché abbiamo il dato settimanale sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti che dovrebbero salire ulteriormente, guardate, addirittura dovrebbero andare a 3 milioni e mezzo, quindi un ulteriore incremento rispetto a quello che abbiamo avuto la settimana scorsa che aveva superato come ricorderete appunto 3 milioni di richieste. Poi gli ordinativi di fabbrica alle ore 16, anche questi abbastanza importanti, sono attesi in crescita ma questi sono relativi al mese di febbraio quindi in questo momento non sono neanche così significativi. Poi c'è la riunione generale del Consiglio della BCE e quindi dobbiamo stare in campana e vedere un po' quello che accadrà a livello di eventuali nuovi interventi per fronteggiare questa crisi economica. Allora adesso passiamo ad analizzare quello che sta succedendo. Allora, euro-dollaro, partiamo all'euro-dollaro perché ieri anche il sistema ci ha dato l'alert, è stato violato questo minimo e vedete che c'è stato un tentativo di recupero proprio in chiusura ieri, però adesso già sta cedendo nuovamente, stiamo tornando al di sotto di questo livello, il sistema ci segnala la possibilità insomma che si possa scendere al di sotto di 1,09 e che quindi si possa tornare addirittura a 1,08. Vedremo insomma una situazione molto molto interessante che andrà seguita con attenzione e quindi cercheremo di capire se l'indicazione che è arrivata questa volta ci porterà appunto a un bel profitto. Continuiamo con i cambi principali, quindi partiamo dall'australiano. Ieri ve l'ho scritto, non chiedetemi cosa è successo perché non si sa cosa sia successo, ma giusto per darvi un'idea di quello che effettivamente è successo, guardate questo spike e qua siamo sull'australiano contro il dollaro americano, uno spike di circa in questo caso un centinaio di pips, ma se andate sui cross volatili come GBP-AUD parliamo di variazioni nell'arco di un paio di minuti di anche 350 pips ed è un qualcosa che non ha una spiegazione. Leggevo le classiche spiegazioni, fatfinger, macchinette, quindi gli algoritmi, insomma quello che qualsiasi cosa sia successa, ripeto non lo sappiamo potrebbe essere, c'è anche stato un intervento della Banca Centrale, ma non credo perché altrimenti non poi avremmo avuto un ritorno alle quotazioni pre-spike. Fatto sta che insomma qua molti stop sono saltati, tra cui anche un mio stop su australiano yen, però pazienza, ogni tanto queste cose capitano, dobbiamo metterle in conto, si va avanti. Qui a differenza dell'euro dollaro vedete che c'è un po' di forza da parte dell'australiano che sta provando a recuperare, però in questo momento non abbiamo nessuna particolare indicazione, ho sempre parlato di questo minimo importante in area 0,62 più o meno, ma facciamo anche 0,60 fin tanto che non si raggiungerà questo livello o si buccherà il livello di 0,62, per me qui non c'è nulla da fare. Stessa cosa per quanto riguarda la stellina dollaro, vedete che sta lateralizzando, questa è una situazione potenzialmente molto interessante da seguire perché potrebbe darci degli spunti veramente interessanti in quanto potremmo eventualmente sfruttare la rottura di 1,25 oppure eventualmente la rottura, guardate, di questo minimo a 1,22, però vedete che la volatilità è estremamente elevata sulla stellina, quindi qui occorrerà un po' di tempo. Neozelandese contro dollaro americano, anche qui chiaramente c'è stato lo spike meno pronunciato, ma l'australiano sappiamo che si trascina molto spesso dietro il dollaro neozelandese, le dinamiche sono molto simili, anche qui guardate, qui abbiamo avuto la violazione del minimo, di questo minimo, quindi teoricamente si potrebbero essere aperte delle prospettive ribassiste che poi però sono state subito negate appunto dal movimento che abbiamo visto ed è per questo che il sistema molto probabilmente non ha segnalato appunto un'opportunità ribassista. Andiamo poi sul dollaro americano contro il dollaro canadese, qui continua il saliscendi, anche qua in questo momento prendere una decisione operativa non è per niente facile, direi che infatti in questo momento io qui non faccio nulla, vedete come questo livello molto interessante e volumetrico a 1,42 e 3 circa poi ha ributtato giù le quotazioni, il livello di supporto è sempre in area 1,40, quindi questo è un nostro punto di riferimento per un'eventuale operatività ribassista qualora dovesse essere rotto. Andiamo sul dollaro yen, poi vi dico dollaro CHF, lo sto lasciando perché con il CHF è sempre pericoloso e guardate qui siamo arrivati a 107, era un livello che vi avevo indicato, l'abbiamo testato, adesso anche qua situazione molto interessante perché se dovesse accedere questo livello avremmo circa una figura di strada da fare e quindi potenzialmente discese interessanti da poter sfruttare e vedremo se ci sarà questa possibilità. Andiamo sugli indici, S&P 500, S&P 500 che stamattina sembra in fase di correzione però devo dire che insomma anche dai volumi, qua siamo chiaramente sulle quotazioni del Future, anche i volumi ci dicono in realtà questo è il CFD ma come sapete insomma prima che apra New York le quotazioni che riceviamo non sono quelle derivate dal Future, quindi dal contratto ufficiale. Vedete che abbiamo tre candele rialziste dopo questa Doji quindi questa potrebbe essere nient'altro che una correzione perché vedete come i volumi siano piuttosto bassi per cui siamo nuovamente a 2.500 punti, stiamo lì lateralizzando tra i 2.450 e 2.500 punti, già da ieri non vedo in questo momento interessanti spunti di operatività. Siamo in positivo sugli indici, soprattutto guardate il nostro Fuzzimib è quello che sta andando meglio perché sta guadagnando due punti e mezzo percentuali però deve recuperare un po' di terreno considerate sempre che il Fuzzimib chiude prima degli altri indici, quindi insomma ieri aveva chiuso con una performance meno negativa rispetto alle altre borse europee, adesso sta recuperando terreno. Andiamo a vedere il DAX, DAX che è tornato sopra ai 9.500 punti, interessante questo movimento però vedete che alla fin fine questo livello l'ha rotto e ci è tornato sopra, in questo momento lo sta ritestando quindi direi che non è un livello più così importante e andiamo a cancellarlo. I nostri riferimenti restano i 9.000 e i 10.000 punti. Fuzzimib per curiosità, andiamo a vederlo, vedete che in questo caso stiamo sempre muovendo tra i 17.500 e i 15.000 punti, qui a livello daily vediamo se si può individuare qualcosa di nuovo. Direi che in questo momento no perché chiaramente queste candele ad altissima volatilità non ci permettono di avere altri riferimenti se non proprio questo minimo volendo che si potrebbe tracciare perché vedete che corrisponde anche a questo massimo, quindi volendo qua ci si potrebbe mettere una retta orizzontale e tenere questo riferimento intorno ai 16.000, allora se andiamo su 4 ore, siamo intorno ai 16.000 e 100 punti, diciamo i 16.000 punti. Andiamo sull'oro, l'oro rottura ieri del livello che avevamo segnato a 1590-1595, adesso lo stiamo retestando, molto interessante questo retest perché se dovesse tenere il livello ora di resistenza qua si potrebbe affondare ulteriormente verso 1550, però vi rendete conto voi stessi come in effetti ci sia molta lateralità un po' dappertutto, molto probabilmente perché gli operatori stanno aspettando di valutare i dati di domani. Nella settimana dei non-farm raramente assistiamo a movimenti direzionali molto forti, questa è proprio una caratteristica delle settimane dove abbiamo ad esempio appuntamenti con le banche centrali piuttosto che non-farm, piuttosto che il PIL e via dicendo. A meno che non escano notizie importanti di carattere finanziario, economico e quant'altro, direi che difficilmente andremo a vedere movimenti importanti. Il VIX, guardate, questo è l'obbligazionario, il VIX, quello che vi volevo dire, vedete, sta perdendo 5 punti percentuali e quindi le borse, come vi ho detto anche i giorni scorsi, stanno salendo, correlazione inversa. Questo è l'obbligazionario americano che sta guadagnando 3 punti e 3 percentuali, anche in questo caso se sale il rendimento dell'obbligazionario, questo è il decennale americano, ricordiamoci che il dollaro si indebolisce, anche in questo caso correlazione inversa. Però, insomma, non è per il momento una variazione così significativa, vedete che sta comunque lateralizzando già da diversi giorni e anche questo denota incertezza da parte degli operatori perché significa che stanno attendendo e quindi se stanno attendendo gli operatori, insomma, anche noi non vedo perché dobbiamo andare a rischiare il nostro capitale. L'operazione che vi ho detto sull'euro dollaro è l'unica che ci è stata segnalata e vedremo se, insomma, da qui a domani, prima di non farmi ci darà la possibilità di portare qualche pips a casa. Direi che adesso è tutto, io vi ringrazio per la partecipazione, per l'attenzione e vi do appuntamento sul canale ed eventualmente poi stasera vedremo se ci sarà qualcosa da aggiornare. Lo faremo. Buona giornata, buona mattinata a tutti.